Buonasera a tutti, questa sera sono qui a presentare un articolo stupendo, un articolo che sfido chiunque a trovarne uno migliore, è un dado, il suo nome è Dado Note, è in carta tecnica, completamente personalizzabile su tutte le facciate, che però racchiude al suo interno un'emozione, un valore aggiunto, andiamo a aprire, guardate che bello, uno strumento da scrivania insostituibile, prima di aprirlo c'è una linguetta da scoprire per un adesivo potente, che dopo un po' di pressione agisce e tiene fermo il nostro dado, il nostro dado come dicevamo è un bello strumento da scrivania, abbiamo un bel blocco di foglietti personalizzabili, possono essere foglietti collati in testa, come questi, oppure adesivi, anche qua ne abbiamo in quantità minore, proprio per lasciar posto hai le flag colorate, pvc collato riposizionabile, segna pagina, sopra è vuoto, dentro ci sono le istruzioni d'uso, ed è vuoto sopra appunto per metterci dentro le penne, quindi diventa anche comodo portapenne, è un bel articolo completo, dove nessuno dei vostri clienti butterà via, lo lascerà sempre pronto sopra la propria scrivania, dado note!